Qualche giorno fa, HBO e Warner Bros. hanno annunciato la nuova serie TV reboot della saga di Harry Potter, tratta dai libri di J.K. Rowling. Ma cosa sappiamo di questa nuova serie? E quando arriverà in Italia? La notizia più importante è quella che c'è già un capo sceneggiatore incaricato di iniziare a scrivere una sceneggiatura, supervisionato da J.K. Rowling, esatto, quella Rowling, che collaborerà con la produzione per cercare di indirizzare nel modo corretto la produzione e quindi la scrittura della nuova serie TV. Il problema principale è che la scrittrice ha paura che venga snaturata troppo la sua opera e per questo ha rassicurato i fan dicendo che ci penserà lei ad assicurarsi che il prodotto originale non venga trasformato troppo. Sicuramente per tutti noi che andiamo a Harry Potter il problema sarà innamorarsi nuovamente dei protagonisti perché siamo abituati a Emma Watson, a Daniel Radcliffe e tutti gli altri che ci hanno accompagnato per così tanti anni nell'immaginario collettivo loro tre, Ron, Hermione ed Harry, sono sempre stati rappresentati così sicuramente nei libri potrebbe esserci una nuova visione, una nuova versione di questi personaggi ma sarà molto difficile abituarsi a nuovi interpreti. Sicuramente il cambiamento è sempre dietro l'angolo e quindi sono aperto a tutto. Per quanto mi riguarda non vedevo l'ora di una serie TV su Harry Potter perché ci sono tante cose che sono state tralasciate nella trasposizione dei film. Per una serie TV c'è tanto tanto materiale da cui attingere e per cui molti fan non vedono l'ora. Il problema è che effettivamente per quanto non ci piaccia ammetterlo fra 3-4 anni per quando la serie arriverà qui in Italia perché molto probabilmente ci vorrà il 2025 se non il 2026 per vedere almeno la prima stagione ormai l'uscita del primo film saranno passati quasi 25 anni, 26 anni quindi è una generazione ed è effettivamente il momento di riprendere in mano la saga di Harry Potter e di aggiornarla. C'è una dichiarazione come detto da Zaslav insieme alla Rowling che mi preoccupa un povero perché proprio la Rowling insieme al CEO di Warner Bros ha detto che aggiornerà la serie e il racconto dei libri alle nuove generazioni. Ecco probabilmente aspettiamoci dei cambiamenti per quanto riguarda il colore della pelle o magari il cambio di sesso come accaduto per alcuni personaggi di Yune o per esempio mi viene a fare l'esempio di The Last of Us dove i due fratelli se non sbaglio nel sesto episodio il bambino nel gioco non era sordomuto mentre è stato poi trasformato sordomuto per dargli più sensibilità da parte del pubblico. Ci saranno alcuni cambiamenti e quindi aspettiamoceli ma io spero semplicemente che l'essenza dei personaggi venga rispettata anche se mi dovessero fare un'ermione afroamericana o un silente afroamericano per quanto adesso sia molto curioso di questo perché avere un silente afroamericano magari interpretato da un Morgan Freeman non sarebbe per niente male. C'è tutto da vedere e ancora tutto da scoprire per quanto riguarda questa serie non sappiamo niente anche il mini mini teaser con il quale è stata presentata a molte vibes della vecchia saga come il castello, come la musica di John Williams e come il logo, il font della scritta Harry Potter ci sarà un rinnovamento, ci sarà un completo ricasting e spero vivamente che mantengano il fatto del ricasting per cui soltanto gli attori britannici possano far parte di questa serie. Ma quando vedremo questa serie in teoria su per giù come detto ci vorrà almeno un 2026 se non qualche anno in più, 2027 forse ma il problema anche se dovesse terminare la produzione della prima stagione per il 2025 in Italia la distribuzione su Max quindi la piattaforma nuova di distribuzione di Warner Bros Discovery non arriverà qui in Italia almeno fino al 2026 tutti i prodotti che riguardano quindi Warner Bros siano quindi Harry Potter o Game of Thrones come House of the Dragon anche arriveranno su Max la nuova piattaforma che è stata lanciata proprio insieme a diversi annunci come il pinguino di The Batman la serie sul pinguino di The Batman molto probabile che non vedremo la piattaforma di streaming Max in Italia prima del 2025 perché l'accordo con Sky ed HBO prevede che i prodotti quindi le serie originali di HBO vadano direttamente su Sky o in contemporanea con gli Stati Uniti è accaduto con Watchmen è accaduto con il Tron di Spade House of the Dragon e molti altri prodotti quindi molto probabile che qui in Italia prima della scadenza di questo accordo che durerà fino alla fine del 2025 non vedremo questa piattaforma e da una parte sinceramente potrebbe essere un punto a favore perché? perché la nuova piattaforma di streaming creata ad hoc da Warner Bros Discovery ha dei punti positivi ma anche alcuni punti negativi Sky recentemente ha distribuito prodotti appunto originali HBO come The Last of Us House of the Dragon e quindi noi abbiamo avuto la fortuna per gli abbonati Sky & Now di vederli sulla piattaforma Sky appunto senza pagare un costo aggiuntivo quando arriverà Max in Italia racchiuderà tutti quei prodotti originali quei brand principali marchiati Warner Bros quindi The Last of Us House of the Dragon Succession tutta la saga di Harry Potter film compresi tutti i film che riguardano che sono sotto il brand Warner Bros andranno a comprendere quei titoli di prima fascia che potranno vedere sono determinati abbonati ma andiamo con ordine perché qui vengono alcune cose negative anzi se non la cosa peggiore dell'annuncio della notte scorsa per quanto riguarda Max questa piattaforma che arriverà nei prossimi anni in Italia e quanto sembra in America arriverà già il 23 maggio Max avrà tre piani pensili il primo piano un po' come quello di Netflix a 9 dollari e 99 con la possibilità di pagare meno ma guardare film o serie con all'interno delle pubblicità che come al solito ormai è un trend che stanno adottando moltissime piattaforme e purtroppo dovremmo abituarci a convivere quindi Netflix già ha adottato questa strategia di marketing e quando arriverà Max già lo avrà nel suo abbonamento questo a 9,99 senza contare il limite di streaming e di contenuti che si possono usufruire offline scaricandoli la seconda possibilità il secondo pacchetto che si può acquistare è quello a 15 euro nel quale troveremo alcuni titoli compresi quelli diciamo originali Max e Warner Bros di medio livello ma non come il pacchetto precedente ma non quelli principali quindi avremo la possibilità di vedere film o serie tv senza la pubblicità quindi già abbiamo un piccolo upgrade ma il terzo pacchetto che Max ha previsto per i suoi abbonati è di 20 dollari qui possiamo trovare tutti i brand originali Warner Bros a partire da Harry Potter Game of Thrones e Succession o The Last of Us compresi anche i film dedicati alla saga di Harry Potter chi è che ha pagato che pagherà 20 dollari al mese e potrà soffrire di questi film importanti di questi brand importanti ma chi è che avrà qui due pacchetti precedenti quindi da 9,99 e da 14,99 no per me questa è una grandissima calzata perché se punti a rialzare la testa perché Warner Bros ha un debito immenso di milioni di dollari e limiti contenuti anche a chi magari non può permettersi un abbonamento da 20 dollari è come darsi una mazzetta sui piedi io spero per Warner che questa sia la scelta di marketing giusta per quanto mi riguarda farò l'abbonamento a 20 dollari perché è una passione quindi lo farò sicuramente però è una scelta rischiosa perché evitare di far usufruire agli abbonati che non possono permettersi 20 dollari al mese di piattaforma streaming e non concedergli di farvi vedere serie come quella su Harry Potter o brand importanti come tutti gli spin off in lavorazione del Trono di Spade è veramente un po' obiettivamente rischioso insomma questo è quello che sappiamo a grandi linee della serie tv su Harry Potter che racconterà nuovamente la saga dei sette libri ci saranno quindi sette stagioni una stagione al libro e durerà per dieci anni insomma se inizieremo a guardare la serie fra 4-5 anni per quanto mi riguarda avrò 40 anni quindi finirò la serie a 50 anni io ho paura seriamente paura quindi ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qui fatemi sapere voi cosa ne pensate se vorreste qualche cambiamento qualche idea per migliorare un franchise che già secondo me ha molto potenziale traendo ispirazione dai libri o se magari non volete nessun cambiamento e quello che avete visto ho letto nei libri è perfetto così per quanto mi riguarda alcune cose nei film andrebbero cambiate o espanse a seconda insomma del film ma questo materiale da live e da video più lunghi vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate tutti i nostri link ai social quindi instagram facebook e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale youtube e cliccare sulla campanella per avere sempre news e rimanere aggiornati sui nostri video e le recensioni vi ringrazio da valerio perrone e da giaccazione buona giornata